ehi amici eccomi qui io mi presento sono mister g il mio canale è l'ale è assai speciale e l'ale se non mi seguirete bene direte con i cv a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video io sono mister youtube e sono oggi è specializzato in video giochi classici si avete sentito i giochi classici quelli più famosi della storia quelli che hanno stati più famosi della storia in passato ad esempio conoscete che il drago sparo andy anche tra quelli si ad esempio in parole povere io e favij stepney anima dexter stepney anima e favij io noi io e loro cioè io rispetto a loro abbiamo ragazzi diversi ora non ho più nient'altro da dirvi e noi ci vediamo tra poco dal mister g questo è tutto arrivederci grazie